Grecia alle urne per la seconda volta in 34 giorni. Da piazza Sintagma ad Atene, Chiriacossa Mizzotakis, ex premier e leader di Nuova Democrazia, vincitore delle elezioni del 21 maggio con il 41%, sogna la maggioranza assoluta. A sinistra il leader di Siriza, Alexis Tsipras, ha tenuto il suo ultimo comizio nel porto di Salonico. Deve recuperare uno scarto di oltre il 20% rispetto a Nuova Democrazia e appare una missione impossibile. Il leader del PASOC, Nikos Andrulakis, ha l'ambizione di scavalcare Siriza e diventare il primo partito di opposizione in Grecia.